La fine del matrimonio con Alessio Curcio si è ormai consumata, l'ex capitano e promesso sposo del Catanzaro al quale ha detto sì ieri, subito dopo aver rescisso il contratto che lo legava al Foggia per altre due stagioni. Si volta pagina dunque, la storia dopo due stagioni è finita, certo la perdita è pesante, va via quello che negli ultimi due campionati è stato Croce e Delizia del popolo rosso-nero, un giocatore importante che il gioco forza andrà sostituito adeguatamente per mantenere alta l'asticella di un Foggia che pure fin qui in chiave mercato ha operato benissimo. La società rosso-nera tuttavia sarà costretta a correre ai ripari e l'ultimo segmento di mercato dovrà servire per completare l'organico di Boscaglia, una perdita che probabilmente in casa rosso-nera non ci si aspettava anche se ormai si era percepito da tempo che i rapporti tra Curcio e il club non fossero dei migliori. Tuttavia Canonico e di suoi più stretti collaboratori contavano di risolvere la questione, ma le richieste del giocatore sono state ritenute inaccettabili. Curcio è stato accontentato invece a Catanzaro, scherzi del destino a proda proprio in quella che è l'avversaria numero uno di un Foggia che comunque punta a correre per la promozione. A questo punto bisognerà comprendere cosa questa partenza cambierà nelle strategie di club e allenatore che erano già alla ricerca di un esterno d'attacco sinistro, di un terzino destro, di un terzo portiere e forse anche di un attaccante centrale. Ovvio che la valutazione ora andrà fatta a più ampio respiro. Finora il Foggia di Boscaglia era stato disegnato e costruito attorno al 4231 per capire se si continuerà su questa strada o l'addio a Curcio può essere interpretato anche come una volontà a rivedere il modulo. Perché se così fosse il Foggia potrebbe pensare a rimpolpare la mediana con un altro innesto di spessore e qui torna attuale il nome di Salzano della Ternana. Tutte valutazioni che andranno fatte nelle prossime ore. Prima di sferrare l'assalto agli ultimi botti di un mercato che, Curcio a parte, resta comunque altisonante. Ieri intanto i rossoneri hanno ricevuto l'abbraccio dei propri sostenitori. L'ultra della curva sud e della curva nord hanno riempito e colorato la tribuna del campo della FGC, struttura che in questi giorni ospita gli allenamenti di Peterman e compagni. Centinaia hanno fatto sentire il proprio calore incoraggiando la squadra in vista di una stagione che da queste parti vuole essere ambiziosa. Di stacco nei confronti di Curcio l'ex capitano era in borghese al campo. Qualche chiacchiera con i tifosi, poi ognuno per la propria strada.